Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui dalle fresche frasche Siamo qui dalle fresche frasche mentre la gente mi guarda storto Per fare i pronostici dell'andata e delle semifinali di UEFA Champions League Se volete fate anche i vostri qui sotto nei commenti Lasciate like, condividete le sezioni, commenti e campanellina Tutte cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle Quindi fatele, che vi costano poco E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare Rimediati dei giornali del tuo canale a 360 gradi Quindi che aspettate, fatelo C'è un sole che spacca le pietre oggi qui Fa un caldo incredibile, ecco perché mi vedete a manica corta Voi se non interesserà nessuno, fa un caldo della madonna Fa un caldo abberdante, fa un caldo incredibile Non si può fare Non si può stare, io sono uscito giù per prendere una poccata d'aria Ma è meglio che mi stavo sopra, ecco È meglio che mi stavo sopra Allora Pronostici Andata Semifinali Di UEFA Champions League Allora Iniziamo Prima Primo pronostico Poi Nella sera usciranno quelli di UEFA Europa League UEFA Conference League Non vi preoccupate Allora Real City È la prima partita di questa andata Dei semifinali Di UEFA Champions League Martedì Alle 21 Tra l'altro Vi dico già e vi spoiler Che saremo anche in live Perché io il giorno dopo Non devo andare a scuola Perché dove sono io Passo al giro d'Italia Quindi Martedì Ore 21 Vi aspetto in live Per guardare Manchester City Real Madrid Manchester City Comunque Abbiamo fatto già due minuti di chiacchiere Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere inutili E andiamo a fare il pronostico I pronostici Gli amati in City Prima partita di andata Delle semifinali di Champions League Io vi dico X2 X2 Sapete perché? Perché Il Real In un incontro secco Inizia sempre alla data O perdendo O pareggiando E poi al ritorno Te la recupera E io penso che sarà proprio così All'andata Il City Sognerà Di andare in finale Quindi pareggerà O vincerà E poi verrà beffato Al ritorno Questo secondo me Avverrà Quindi Real Madrid In City X2 Ehm Ultima partita Il derby europeo Il derby tutto europeo Milan-Inter 2 Per me Vedendo come stanno In questo momento In campionato Si sono le prese Si è vero Comunque Sono entrambe tornati a vincere Sono in un periodo Ottimo di forma Direi Meglio l'Inter Perché Comunque viene da 4-2 Di fila Il Milan invece È ancora un po' subalterno È ancora un pochino Alternante Perché comunque Pioli Tra il 4-2-9 E il 4-2-9 La palla Secondo me L'Inter Vincerà L'Inter Vincerà Questo confronto Dell'andata Delle semifinali Di UEFA Champions League Secondo me Sì Secondo me Sì perché Vedo Un Milan Che se la giocherà Comunque Però Secondo me Passerà L'Inter Secondo me Scusate Secondo me La gara d'andata La passerà L'Inter Secondo me La gara d'andata La vincerà L'Inter Questi sono I miei pronostici Dell'andata Le ottave Di UEFA Champions League Tranquille Che Nella serata O nel pomeriggio Dovevo vedere Escono anche I pronostici Di UEFA E UEFA Conferenze League Noi ci becchiamo Con un prossimo video Ovvero O oggi O oggi O oggi O stasera Bella Qui Dai ce l'abbia tutto Se volete Diziamolo al prossimo Qui sotto i commenti Like, commenti, schizio Condivisci E campanile E noi ci becchiamo Alla prossima Ciao